buongiorno ragazzi completiamo questo lavoro che stavamo facendo sul sui movimenti sul piano vi ricordate che avevamo disegnato otto volte la fi questa figura la figura r e su questo primo lavoro dove abbiamo messo il foglio in verticale abbiamo scritto movimenti sul piano rotazioni questo qui dovremmo averlo finito comunque chi non l'avesse completato può attaccare le prime 4 r che abbiamo colorato in questa maniera che cosa vuol dire abbiamo scelto un centro di rotazione che è questo qua e abbiamo immaginato di attaccarlo qui come fosse un chiodino e da quel punto la r è ruotata ogni volta nei quattro quadranti ogni volta di 90 gradi e le abbiamo attaccate in questo modo allora ricordatevi bene sempre di fare le scritte quindi su questo disegno dovete scrivere movimenti sul piano due punti rotazioni poi fate un punto qua lo riportate come una leggenda e ci scrivete centro di rotazione e questo era il primo lavoro il secondo che dobbiamo fare riguarda invece un altro tipo di movimento che riguarda il ribaltamento della figura quindi se nel primo disegno la figura resta sempre attaccata sul piano il movimento avviene sul piano la rotazione nel caso del ribaltamento succede una cosa di questo genere qua in questo caso vedete la figura esce dal piano e ritorna sul piano lungo un asse che in questo caso è verticale e in questo caso l'asse è orizzontale e questo è il movimento io non mi fermo nella spiegazione perché tanto siete voi che potete fermare il video questo è il lavoro che dobbiamo fare ma voi non dovete farlo così come dovete farlo allora in questo caso prendete un foglio lo mettete in orizzontale buchi in alto le cornice 28 per 18 poi dividete a metà per così quindi da qui a qui saranno 14 quadretti dividete a metà in questa direzione da qui a qui saranno 9 quadretti e facciamo la croce poi questa parte la lasciamo così perché ci appoggieremo sull'asse già che abbiamo da quest'altra parte ci serve un asse verticale quindi andiamo a dividere ancora metà se questi sono 14 questi saranno 7 e facciamo una linea verticale allora a questo punto preparatevi il foglio e riprendete le altre quattro r che avevamo disegnato allora nel primo caso una r l'attacchiamo su questa linea che abbiamo tracciato quindi abbiamo un asse verticale intorno al quale la la figura viene ribaltata quindi esce dal piano e ritorna sul piano come vedete quando io vado attaccare questa è rovesciata quindi una r dovete colorarla da questa parte e una da quell'altra da questa se qui dietro voi naturalmente non avete il disegno mettete la r un momentino in controluce sulla finestra per ricaltaccate il profilo e in maniera che avete il contorno e potete colorarlo stessa cosa dovete fare qua una la attaccate in questo modo e l'altra si ribalterà così quindi una la colorate da questa parte e l'altra dovete fare la stessa cosa di qua la rovesciate e la colorate dalla parte opposta questa linguetta a voi non serve va bene quindi conclusione vedete 1 2 3 4 queste sono le altre 2 4 r che avevamo disegnato 2 le colorate dal dritto diciamo così e 2 le dovete colorare rovesciate va bene spero che sia chiaro poi cercherò un riscontro e vedremo i prossimi lavori come possiamo organizzarli ciao a tutti buon lavoro